Ciao Federico, sono Elena Rughetto, la tua collega della provincia di Lecco. Come stai? Ciao Elena, tutto bene, è un piacere sentirti. Dimmi tutto. Bene, mi fa piacere. Senti, ti chiamo perché ho un cliente che vuole vendere una casa a Tresana. È nella tua zona, giusto? Sì, Tresana e Lunigiana. Perfetto. Che dici, collaboriamo? Certamente. Bene, ti mando subito tutta la documentazione. Grazie, a presto. Ciao. Ottimo, aspetta la documentazione e partiamo. Ciao. Ciao. Ottimo, aspetta la documentazione e partiamo. 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 Grazie.